Eccoci arrivati, siamo a Campello Monti, potremmo dire che siamo davvero in paradiso. Peccato che la strada per arrivare fin qui è un po' infernale, è un po' da dimenticare. Sembra una strada abbandonata, mai come in questi periodi si parla, in questi anni si parla di montagna, salvaguardia della montagna e la montagna mai come a Vallestrona si sente abbandonata. Ultimamente ho chiesto al Presidente Stefano Costa di intervenire abbastanza velocemente ma tutto questo con promesse tra 15 giorni arriviamo, tra 15 giorni arriviamo, ma adesso se non sfruttiamo il periodo del turismo, quei quattro turisti che vengono, speriamo che ne vengono, stanno arrivando i tanti, ci sono arrivati i bambini tedeschi e gente varia, non si mettono a posto la strada, logicamente ci è detto adesso i primi di agosto veniamo, se le ditte chiudono so già che porteremo tutto a settembre e poi a settembre il turismo è già chiuso e la gente non è solo problema oltretutto qua di sopra forno per arrivare a Campello, ma il problema ce l'abbiamo a piana di Fornero e ce l'abbiamo prima dell'ingresso di forno, dunque c'è cittadini che vanno a lavorare tutti i giorni, i miei cittadini vanno a lavorare e arrivano a fine Svizzera e dunque non credo che meritiamo tutto questo. Siamo sempre l'ultima ruota del carro e voglio dire arrivano i ristorni dalla Svizzera, fortunatamente quest'anno abbiamo preso 18 mila euro grazie ai frontalieri che prendono, al mattino vanno a lavorare con tutto sacrificio e con quei soldi riusciamo a mettere a posto le nostre strade qualcosa e questa provincia siamo sempre a litigare e a discutere. Ed è un vero peccato, Giovanni Volpone coraggiosamente, lui tutti gli anni in primavera quando va via la neve viene ad aprire la locanda del Capizzone e poi la chiude quando arriva la prima neve, insomma da neve a neve, però insomma è una gratificazione bella, vediamo tanta gente, tanti stranieri che vengono qui Giovanni. Tanti stranieri però reclamano tutti per la strada, la strada è un disastro diciamo proprio la verità e noi sai senza strada è un problema, anche i sentieri di montagna non è che siano, però i sentieri di montagna uno lo trova con me, viaggia a piedi, non è che viaggia in macchina, è una cosa così, noi non siamo aiutati diciamo la verità, siamo proprio per niente aiutati.